Eh, sono con... il tasto ESC... sono concordo anch'io, devo pensare a cose però, non sono concordo anch'io. Domani per iniziare briscola e amaro con caffè per svegliarsi? Domani andremo un attimo con metodo perché non partiremo subito straattivi, quindi... Allora, vediamo un attimo... Allora, io non ho idea... Che cazzo siano sti pali? Io non sono diventato un esperto di pali ancora, quindi... Le sdubio, le soto, sì, nel dubbio sempre le soto. Il problema è che non ho idea di questi pali del cazzo perché qua, Francia, c'è qualche esperto di pali in chat? C'è l'esperto dei pali? Devi mettere la modalità gaming incompetente, comunque è Marte. E che cazzo ha la modalità gaming? Anzi, per il giro... Sai che potrebbe essere Francia veramente? Dalla live... Guarda che ho già messo GeoGuessr come titolo, eh, non ho capito... non ho capito, ma tanto... È un cartello con niente, molto interessante, devo dire... La live... La modalità gaming della live... Ragazzi, io vi giuro, non ho idea di che cazzo state parlando, ve lo giuro... Non so cosa vuol dire la modalità gaming della live... Ah, no, con GeoGuessr non lo faccio mai, dai, no, non lo faccio mai con GeoGuessr... Ma perché non si legge un cazzo di niente? Non si legge un cazzo di niente... Australia... Potrebbe essere... Non si legge una sega... Io metto Australia, vaffanculo... C'eravamo vicini, c'eravamo vicini... Era la nuova Zelazia... Grazie, Eren, per il 10 cipollatino, grazie mille... Mi spiace, cipollatino... Adesso stai qua che ti rilassi un po', dai... Ah... Quindi non siamo nell'impero... Per un impero... Makmal Veteran al Kawasaki... Che cazzo c'è scritto qua? Makmal Veteran al Kawasan Jor Buru Jor... Eh? Thailandia, no, Thailandia non può essere perché ci sarebbe scritto... Quindi non può essere Thailandia... Ranil Saj... University... Sono un attimo in crisi... University... Ha scritto come scrivevo io University in seconda elementare per dire... No, la targa è dell'orlo esterno... Comunque come sta tua sorella... Inoltre ieri ti sei dimenticato di fare il raid... Eh, lo so, mi scordo sempre, Patatilo, vi pazienza... Ti chiedo humilmente perdono... Ragazzi, dove merda siamo? Romania, dici? Ma non è sicuro? Uganda... Come Uganda? Non è rumeno... Perché è Uganda... India... Boh, ragazzi... Proviamo... Mi ispira anche a me Malesia, proviamo... Yes! Bene... Bene, bene, bene... Vende Barral... Non facciamoci distrarre da questo vende... Pensare subito che sia Italia perché secondo me non è Italia... La targa è imperiale... La targa è imperiale... Aragonesa de Pienzos... È l'espana... È l'espana banana... Siamo in espana banana... Sì, la targa è imperiale... Imperiale sta per... Per l'impero europeo... Secondo me siamo in spana... È portocazzo? È portocazzo? Dici che è portocazzo? Atten... ATTENTION! È portocazzese? Non è spagnolo? Collegio pubblico? No, secondo me è Spagna... Sì, sì, sì... Qua è Spagna... Yes! Le avevo già visti sti pali... Ma non mi ricordo assolutamente più... Dove merda siamo... Quei pali le avevo già visti... Non mi ricordo più... Ok... Siamo o in Sud America... O in Africa... Però penso più Sud America... Hmm... Filippine... Non mi ispira molto di Filippine... In Kenya... Non è da escludere... Però... Mi sembra tutto un po' troppo verde... Taiwan... Taiwan... Appena vedo la scritta... Attenzione... Attenzione... C'è un altro cartello, per favore... Ah, sì, ok... C'eravamo vicini... C'eravamo vicini... C'eravamo vicini... Vedi... Anche la Cambogia... C'ha... Quindi dobbiamo stare attenti perché... Anche la Cambogia... Parlano come i Thailandi... Quindi dobbiamo stare attenti perché... Però insomma... Abbiamo appurato che... Se c'è scritto... Se c'è... Quelle cartelle con quello lì... C'è scritto Cambogia... Non l'ho letto... Ti chiedo minimamente scusa... Sono un po' stanco... Perdonami... Sono un po' stanco... Non so perché... Springfield... Trae nucleare... La targa è imperiale... Sì... La targa è imperiale... Quindi siamo nell'impero... Irlanda... Non lo so... Caffè... Adulciuri... Legum... Fructe... Tigari... Pine... Lectate... Non... 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 È rumeno... Ah... Ma allora siamo in Romania... Sei rumeno... Cerchiamo un altro cartello che ci possa aiutare... È tutto... È tutto... No... È tutto... Mmm... 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 Non trovo... Eh... Potrebbe essere Romania... Non trovo... Università... E... Spiruatet... Ah sì... Eh... Romania... D... 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 Del Maine... Qua... Sì sì... Il sole sta sorgendo... Eh sì... Il sole sta tramontando... Totalmente a ovest... Quindi è una zona centrale... È una zona al centro del mondo... Dove? Non si sa... Ma è al centro del mondo... Ma è al centro del mondo... Pamparebonda? Portogallo? Inglese... No... C'è scritto Pamparebonda... Cile? L'hai riconosciuto dai pali? Cile! 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 Cile... Cile... Polo Sud... Ho capito... Ho capito Cile... Sto cercando di esplorare un attimo... Sto cercando di esplorare un attimo... Per vedere... Se magari troviamo... Metti che ci viene un'illuminazione incredibile... Cile... 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 Controlliamo anche la macchina... Sì... La tipica macchina cilena... Con la targa alta... Lo so... Lo so... Dai... Diciamo Cile... Era in Bolivia... Era in Bolivia... Perfetto... Ottimo... Va bene... Cile... Bolivia... Comunque era va lì... Era va lì... Più o meno... A grandi linee... Non mi sembra... Non mi sembra... Sembra più indiana quella scritta... Sri Lanka... Eh... Eh... Sembra più Sri Lanka... Arshua Motors... Cura enorme... Chiamai il numero... Mi rispondo... Salve... Lei è in Sri Lanka... No... Penso sia Sri Lanka... Effettivamente... No... Non credo... Pakistan... Io sono dello Sri Lanka... Beh... Ma... Dipende... Se sei stato qui... È un discorso... Però... Se leggi la scritta... La macchina non è quella... È interessante perché... La macchina non è quella indiana... La macchina non c'è... E non so come ti abbia fatto capire... Visto che la macchina non c'è... Diciamo Sri Lanka... Allora dai... Diciamo Sri Lanka... No... Che Madagascar... Benissimo... Siamo in Sri Lanka... Spino... Grazie bella sappa... Ratino... Benvenuto... Tra le paper armatine... Vediamo un attimo cosa abbiamo qui... Nas Fialet... Nas Fialet... Siamo al nord... In Scandinazia... Ciruzzo... Grazie per te... Ciparatino... Grazie mille per i sub... Siamo in Scandinazia... Il cartello è Svedazia... Sì... Siamo in Svelazia... Sì... 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 Chiaramente è il dialetto marese... Esattamente... Sì... Sì... Norvegia... Norvegia... Ah... Ah... Abbiamo cambiato opinione ragazzi... Abbiamo un paio di Norvegia e un paio di Svezia... Attenzione... Qua c'è un conflitto... Qua c'è un conflitto tra Svezia e Norvegia... La Norvegia fa più freddo... Perché scusa... Tu riesci a sentire il clima giocando a Geoghesser? Diciamo Svedese... Dai... Quella maggioranza c'è Svedese... Ok... Era Svezia... Perfetto... Pro Twist e Finlandia... Esattamente... Grazie a te malatina... Improvvisiamo... In vero... In vero... In vero... In vero... Quello è molto soggettivo eh... Quello è molto soggettivo eh... Mi sa molto di castronata abissale e questi cartelli mi sembrano nomi raccattati dal giornale di Ikea... A semplici infatti... No... Penso che altre fenetà alla fine... Credo che sia una storia... Per quanto assurdo di storie del genere si sentono eh... Non è che... Peck... Snack... Phonics... Veyens... Bolt... No no... Poi siamo... La targa poi è imperiale... Siamo nell'impero... Non... Gli inglesi hanno fatto la Brexit... Non... Tedeschia... Eh... Però sai che effettivamente... No... 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 Tedeschia... Mmm... Non lo so... Non... Non mi sa di tedeschia... Anche secondo me è più Ungheria sai... Quello non è tedesco... Gola... Gola... Non... Ah spero... Ah no... HR... Ah beh sì... Hung... Hungheri... Hungheri... Sì direi che è... Hungheri HR... Matteo HR... Non capisco se... Eh... La targa è dell'impero oppure no... Sì la targa sembra dell'impero... Eh... Francia... Siamo in Francia... Sembra... 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 Eh sì... Punto fr... Punto fr... Siamo in Francia... Punto fr... Ehm... Ehm... L'A14... Non lo so... Sì è tutto molto... Sì è tutto molto... Oh almeno riusciamo a vedere una targa dai... No... Non hai capito un cazzo... Non si capisce un cazzo da questa targa... Ehm... Oh... Dio trombato... Vai in qua... Madonna... Scappocchiata... Una targa! Non... Non sembra... Europea... Ma invece sì... Merda siamo nell'impero ragazzi... È imperiale... Siamo nell'impero... Eh ma dove però? Italia? Ma in base a cose? Perché Italia? Eh... Bella domanda... A me non sembra... A me non sembra Italia... Norvazia? Ah perché dici che c'è la targa simile? Il sole effettivamente è molto al sud... Potrebbe essere Norvegia eh... Norvegia non è imperiale... Sì non è imperiale ma la targa è simile... Quindi è una fregatura... Mmm... Non lo so... Qui siamo in crisi ragazzi... Io metto Estonia... Era Norvegia... Fanculo... Perché vedi... Dovevo darmi retta... Vedi va a cagare... Dovevo ascoltarvi... Vaffanculo... Era Norvegia veramente... Va bene va bene... Niente problematico... Niente problematico... Non eravamo a una grande... Vabbè Mario non l'hai detto convinto... Di solito urli come un pazzo forsennato... Quando sei convinto... Ero convinto non fossi convinto... Faenza oggi... Siamo in Romagna... Che cazzo... Imola... Qui c'è un bambino che sta tentando il suicidio... Io... Ah... Questi sono i classici paletti... Proprio tipici... 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 Di... Mario questo è il momento in cui dovresti scrivere... E io dovrei... È il classico paletto cambogiano... Dai ragazzi... Ma com'è fatta a non capirlo... Dai... Ma dai... Questi sono proprio... I tipici paletti cambogiani... Facile... Dai su... Ma che dai... Io veramente... Sta gente che non studia i paletti della Cambogia... Non li capisco proprio... Dai dai... Che tristezza ragazzi... Non avete studiato i paletti cambogiani... Su... Taser... Taser... Ahmad... Palermo... Ok... Ma allora scusa ma... Va bene... Ero... Mi ero focalizzato un attimo su Taser... Ahmad... Poi vedo Palermo... Ehm... Allora... No... Ok... Eh... Anche io pensavo... Londra e Inghilterra... Però... Eh... Sicilia... Ah beh... Sai com'è... Voglio dire... Palermo... A meno che non abbiano spostato Palermo... Voglio dire... In Lombardia... Sempre in Sicilia... Eh... Comunque... Telefono... Telefono... Si parla francese qui? Potrebbe essere l'Algeria... Dove si parla francese credo? Non lo so... Installazione... No... Installazione elettrica... Però è spagnolos... Installazione elettrica... Non è franceses... Spagnolos... La targas... Non è imperiales... Quindi non credo che siamo nell'imperos... Aspetta... No... Non mi sembra imperiales la targas... Guardo... Cervera... De Pisurga... Di qua... Si guarda... Di là... C'è la birra praticamente... Argentina... Sai che mi spira... Spagna... Ma come scusa... Non ha la targa imperiale... Perché le auto... Queste auto spagnole... Sono... Non hanno le targhe giuste? E Spagna... Può anche essere... Però... Mi fa ridere che... Non abbia le targhe giuste... Aspetta... Castreon... Nella pena... E... Dimmi dove merda è... Colombia... Ok... Speriamo... Speriamo che sia Colombia... Spagna... Era in Spagna... Era in Spagna... Era in Spagna... Era in Spagna... Ragazzi... Colombia... Spagna... Dai... Stiamo parlando... Stiamo parlando di due paesi... Che più o meno sono limitrofi... Dai... Sono adiacenti... Voglio dire... Su... Ma io l'avevo detto che era Spagna... Te Mario ti sei messa a dire... È Colombia... È Colombia... Io ti ho detto... No... È la Spagna... Hai visto che avevo ragione io... Eh... Tu insistevi... Dice... Clicca Colombia... Hai detto... Mario è Spagna... Fidati... No... Ci abita mio cugino... Eh... Vedi... Allora... La targa... Oh... Ok... Sono molto sfocate le targa... No... Qua siamo a nord... Siamo al nord... O al nord... Comunque siamo in Europa per me... Siamo nell'impero... Sì... Le targa sembrano essere imperiali... Perché guardi quella bimba? No... A me piacciono più piccole... Eh... Direi che... Polonia... Eh... Potrebbe essere... Ul Copernica... Non vedo Ratorix... Ma potrebbe essere Polonia... Sì... Potrebbe essere Polonia... Sai... Super Sam... Il tipico... È un eroe polacco dei fumetti... Super Sam... Ah... Era... Orco... Dio... La sigaretta elettronica sui coglioni... Polonia... Turchia... 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 Perché? Dove l'avete letto? Dove è scritto Turchia? Io lo leggo... Dove è scritto Turchia? Celic... È... Tipico turco... Perché? No... Per curiosità mia... Perché Celic è turco? Cioè cosa vuol dire Celic? È un giocatore della Roma turco... E che cazzo c'entra col gelato? Non ho capito... Scusami... Troppe K... Quindi Turchia... Oh... Ora ci siamo capiti... Se ci sono molte K... È la Turchia... Basta dire così... Quanto ci vuole... Dipende... Dipende... Le targhe sono gialle... Inghilterra? No... Sì... Stanno guidando anche contro mano... Quindi Inghilterra... Inglese... No... Però aspetta... Non stanno guidando contro mano... Non è vero... Oh... Sì... Sì... No... Sì... 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 Calcolami... Ok... Dammi i tuoi valori iniziali... Dimmi che variabile devo ottenere... Siamo in Inghilterra... Stelio... Dobbiamo andare a trovare la regina... Due... Cazzo... Targa... Ok... Siamo nell'impero... Siamo nell'impero... E siamo al nord... Secondo me... Siamo al nord... Mh... Impero... No... Non bizantino... Impero europeo... Ah... Punto... No... No... C'è scritto... Norvegia... Punto... No... Norvegia... No... 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 No Ok Oh perbacco Che cazzo è la foresta amazzonica Dove merda siamo Guarda il palo Guarda il palo Guarda il palo Chiedi a Mogli Thailandia Dici Thailandia perché Attenzione Department o social welfare Ragazzi però parla l'inglese qua Problema Sì anche secondo me siamo in Filippine Sì è probabile che siamo in Filippine L'ex colonia statunitense Sì sì Yes C'è scritto Filippine Io ragazzi non Beh Ma leva sto coso Dio scassato nel culo Da un mare in mano Targa gialla Targa gialla Sì grazie Lussemburgo Lussemburgo Perché Perché Ho capito Volevo sapere il perché Perché sì Attenzione Camping B&B Berkel Berkel Targa gialla Paletto Targa gialla Paletto Vuol dire Lussemburgo Etelbruck Gorbersmull Gosdorf Bocholz Sì potrebbe essere in realtà Lussemburgo Germania Attenzione Germania o Olanda Attenzione abbiamo una crisi di interessi Brukel Millen Secondo me Lussemburgo Sì ragazzi Era facile Ragazzi era facile Su Come fate a sbagliarvi Non gli avete visti i pali Ragazzi dai Non l'avete visto L'autista L'autista aveva i capelli colorati Solamente di qua Come fanno tutti quelli De Lussemburgo Perché quelli di Lussemburgo Non superano il metro e 46 7 all'altezza Nei capelli di destra colorati di giallo E quelli di sinistra colorati di blu E dai Facilissimo Il palo era palesemente Il palo Lussemburghese Dai ragazzi Questo è facile Dai Voglio che ci arriviate subito Voglio che ci arriviate subito Guardate il palo Questa è Questa è Palesemente Ma proprio Palesemente Senza ombra di dubbio Senza assolutamente Colpo ferire Malta o Spagna È palesemente Malta o Spagna Ragazzi Palesemente Malta o Spagna Non siete preparati Vedete Non siete preparati Agro turismo Turismo rural Dai ragazzi Come è fatto a non capire Che è palesemente Malta o Spagna Dai ragazzi Io veramente Lo dico Siamo Siamo lontani Da raggiungere Alti livelli Guardate il palo Guardate il palo Con tre Seis Nove Undici Buchi È il palo Spagnolo Perché sono i buchi Che gli italiani Facciamo alle spagnole Quando andiamo a trombarceli In Spagna Il palo Ha undici buchi È un tipico Palo Spagnolo Ragazzi O volendo Anche portoghese Volendo anche portoghese Sì perché Noi italiani Mettami il cazzo Dove capita Volendo anche portoghese Sì è più probabile Che sia portoghese In effetti Sì sì No ragazzi Dai È palesemente portoghese Vi ho tratto In inganno Vi ho tratto In inganno In realtà Sapevo che era portoghese Volevo vedere se nevate attenti Vedete Nessuno in realtà È riuscito a capire Che palesemente È il portoghese Portoghese Ragazzi Ragazzi Non siete Non siete Veramente Siete distratti Siete veramente distratti Ragazzi Io ve lo dico Bisogna studiare di più Esatto È quello che ho detto prima Che le frecce nere Gialle e blu Sono portoghese Allora Siamo nell'impero Ragazzi Allora È facilissimo Questo ragazzi È facilissimo Vedete questa casa Le case che hanno Due Quattro Nove finestre centrali Di cui una è aperta Sono le case Di Andorra Sono le tipiche Case andorreane Vedi Che si affaccia La vecchia E tu dalla strada La saluti Capito Queste sono Le tipiche case Di Andorra Vedi Mi sorprendo Come voi Non conosciate Le case di Andorra Poi Qualcuno è mai stato Al Tarter Residential Vedi 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 Ragazzi Dai Queste sono le tipiche Targhe Le tipiche case Andorreane Che tutti conosciamo Pare strano Che Cosa Cosa Vi insegnano A scuola A scuola Non vi insegnano A guardare i pali Ragazzi Io non so dove finirà La scuola italiana Se a scuola Non vi insegnano neanche A guardare i pali Io quando andavo a scuola Vedevo solo che slide Di pali Di tutti i paesi del mondo Vedevo solo che dei pali Perché così Imparavi la geografia Quindi palesemente È Andorra Allora Dai ragazzi Dai Eh Mario Con chi crede di parlare Qui Dai ragazzi Era facile Allora Guardate bene le piante Osservate bene le piante Queste piante Crescono solo In Brasile Ragazzi Io continuo a dire Che non capisco Come sia possibile Che voi a scuola Non abbiate studiato Le piante brasiliane Queste sono le tipiche Piante brasiliane Quindi È proprio È proprio lampante Dai Si vede Guarda Cioè guarda Sono già qui Che stanno mettendo La gonnella Il boa E cominciano a sculettare In giro Facendo Vedi Sono ditevoli proprio Le tipiche piante Le tipiche piante brasiliane Pianta Esatto Piantao Meravigliao Vedete Su quest'albero qui Vedi Su quest'albero qui Cresce il cuculo Nano brasiliano È un tipo di uccello Molto particolare È un uccello Dal piumaggio Incredibile E cresce solamente In quest'albero Che è in Brasile Però È una specie protetta Quindi non potete toccarlo Mi raccomando Però voglio dire Dopotutto Vedi Un po' di conoscenze Geografiche È il cuculo In culo Brasiliano Ben noto Famoso in tutto il mondo Dai ragazzi Su dai 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 Allora Oh Ma la smette Di mettermi In mezzo Dove cazzo Siamo Che cazzo è Sto posto Di merda Cosa c'è Giù di là Eh Cargum ripara Cargum sostituisce Sa che è il Cargum Oh Oh Ma avanti Che succede Dio Slabrato Cargum Bolognais È palesi Il Vietnam Non vedo Americani che bombardano Non sono sicuro Allora Ah ragazzi Dai ma che stupidi Ma è ovvio Dai ma come avete fatto Non capirlo Dai Cargum è un enclave Nell'enclave Delle enclave Sull'enclave Delle enclave Delle enclave Portoricana In Bolivia In Colombia In Ecuador In Argentina Dai ragazzi Su Ma che cazzo Veramente Cioè Com'è che non studiate Gli enclavi Degli enclavi Degli enclavi Portoricani Argentini Colombiani Brasiliari Dai veramente Qui è venuto Anche Papa Francesco È venuto Papa Francesco Che però È portoricano Ma è filippino È portoricano L'enclave Del Porto Rico Della Colombia Del Brasile Della Scozia Però Il dominio È considerato Filippino È considerato Il dominio Delle Filippine Difatti Se noi clicchiamo Su Filippine Vedi Perfetto Vedi Come dicevo io Dai Cioè Ragazzi Voi non studiate Questi famosi Enclavi Voglio dire Cioè Non è che Il mio Il mio Elettrauto Dove siamo? Che cazzo Usa Eh Egetta Dove cazzo Siamo? A me non sembrano Cancelli A me non sembrano Cancelli Americani Questi Mi sembra di stare In qualche strano Paese Del sud-est Asiatico Non credo Sia America Ford Troppo grosso E' America Eh ma Tutto sta a indicare Che non è America Isuzu Isuzu E' Thailandese Lingua Thai Facciamo Thailandia Non sembrava Thailandese Vabbè 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 Prima Avrei messo Thailandia Subito Miss John Kirem C'ha un po' Di tedeschi Eh Big Plus Adana Forbut C'ha un Ah no Aspetta però Scusa C'è una targa verde Che cazzo Ma che cazzo Di targhe Che cazzo Di targhe sono Ma la targa verde La targa Assomiglia A quella Dell'impero La targa O è Imperiale O è verde Ma che scrive Sembra una targa Alla menta Cos'è sta targa mentata E norvegia Ce l'hanno i furgoni No 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 Ovre Korskirke La menning Geng Miss Gronkhien Norvegia No 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 Allora Norvegia Va bene Mario Che cazzo è La Malesia Che cazzo è Quella bandiera Macedonia Del nord Perché la Macedonia È divisa Macedonia del sud E Macedonia del nord Non mi parlare di Macedonia Che c'è una fame Proprio un paese Doveva essere un deserto Sto paese Diciamo che era D'altro canto D'altro canto Alessandro Magno Era Macedone Perché Magno Magno Macedonia Vedi Vedi È palese La bandiera È macedone Sì sì Adesso Metto Macedonia Volevo vedere se Anfillo Che cazzo è Anfillo Allora Macedo Che cazzo Cazzo è Macedonia Del nord Ma io neanche sapevo Esistere La Macedonia Del sud La Macedonia Sba Quanti orifizi In questo palo Deve essere un luogo Pieno di turisti italiani I pali Mario I pali Qua ci sono Un sacco di Pannocchie Eh no Eh no Stavolta Non lo so Perché potrebbe essere Anche Santo Lomingo Mario La seconda Non mi viene Potrebbe essere Santo Lomingo No Sembra Una lingua Cambogia Sarà Sud-est Asiatica Allora Dai Thailandia Ancora Ah ma di nuovo Thailandia Una altra volta Mettiamo Thailandia 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 Se siete convinti Se siete convinti che sia Thailandia Mettiamo Thailandia Tanto Tanto non è che abbiamo Grandi indizi Quindi proviamo Yes Eravamo al confine Con il Laos Uff Che paese è Targhe gialle Vediamo il cartillo Vediamo il cartillo Stradale C'è un camion Davanti al cartello Stradale Le targhe Non sembrano essere Che paese è Che ha lo schifo Di separazione Rosso Con davanti Ma vaffanculo Lo schifo Di separazione Rosso Con Sarà un paese Molto particolare Araf Sai che è Araf Araf Cazzo di lingua È Araf Ma poi Che strani Pali I pali Sono inglesi Con scritto Araf Ah Perché forse Araf E l'inglese È la seconda lingua Cioè tutto il mondo Praticamente Perché ovunque Parla in inglese Irlanda È lingua celtica Araf È lingua celtica È gaelico Scozzesi Oh Cristo È un problema Araf Galles Quindi siamo nel Regno Unito Ragazzi Ragazzi incrociamo Le dita Siamo nel Galles Del sud Siamo vicini A Swansea Guarda raga Qui abbiamo suonato parecchio Ve lo dico Qui abbiamo Sborrato parecchio Escolares Agrupazione Da pares Amigos Ah su questo autobus Salgono solo donne Vedo Allora Allora Pare Sai che è pare Fa vedere la macchina Di Google Ma non lo so Io non Non si vede niente Qualcuno di voi ha già visto Speedy Gonzalex Penù Impero Asborgico Allora Se dovessi valutare dove siamo Questo open space Che ti entrano direttamente anche i leopardi in camera da letto È tipico del Cile Perché so che in Cile Amano le case Che sono degli open space Che proprio le giraffe Ti succhiano il cazzo la mattina Per svegliarti sul letto E lo mettono nel collo dentro Quindi secondo me Questo potrebbe essere Cile Però Non sono sicuro Sì era il Cile Sì era il Cile Vedi che non sbaglio mai Era paresemente il Cile Tardurlingen boost Andre non ho capito per il merch Perché volevo prendere una maglietta Perché ci tengo a te Perché ci tengo a te A e L Mio ragionamento È se ho preso il libro Perché non dovrei prendere una maglia E comunque ho una L XL in base a come ha la vestibilità la maglietta Sì sì L LXL c'è Abbastanza larghe Tutte due Ma niente Ho pensato di venderle Ogni 10 sub Se qualcuno dà 10 sub Gli spedisco la maglietta Basta che mi dica Dov'è che Il suo indirizzo E gliela spedisco Me lo segno A fine mese Faccio una spedizione Tutta insieme E quella era l'idea Per venderle È tutto francese Grazie per dire Lì c'è un amore Grazie mille Sta bandiera mi ricorda qualcosa Però non sono sicuro Di che paese è Non sono sicuro Di che paese è questa bandiera Aspetta No invece lo so Andiamo con le 10 sabbette Eh se andiamo Con le 10 sabbette Andiamo con la Francia Occhio alla Svizzera E fatemi a ricercare un sacco Ma si dai ragazzi È facilissimo È facilissimo ragazzi Il signor Naman È il presidente Del consiglio nigeriano È noto in tutto il mondo Ha fatto un sacco di interviste Il signor Naman Ha un codice fiscale Che è un casino della madonna Con questo nome Però è proprio il tipico Presidente del consiglio nigeriano Lo conoscono tutti Tutti hanno conosciuto Le sue Trasmissioni Cioè fa proprio un podcast Naman And friend Lo abbiamo conosciuto In tutto il mondo E quindi direi assolutamente Che è Il presidente nigeriano Appena trovo La Nigeria Dai ragazzi Chi è che non conosce Naman Voglio dire Lui ti dà Senza cielo Ti troverai Ragazzi siamo a 19 Ragazzi siamo a 19 Mi raccomando Concentrazione Mi raccomando Piedra il Conde Guarda il sole Eh non lo vedo Ci sono gli alberi Però mi sembra sia un paese Dove si parla spagnolo C'è un monte Comunque il sole È tipo a nord est L'odalo L'odilo Non ricordo questo palo Spezzato tra l'altro Non ricordo questo palo Ha una faccia familiare Cerchi una targa Eh dovrei trovare anche un'auto Però Se no È piedra Dovrei riuscire a capire Non trovo una singola auto Mi dicono con tanta Eh Colombia Cile Eh ragazzi Colombia Cile Cile Fidati Ah ragazzi Nel dubbio Nel dubbio Proveremo Se la maggioranza del popolo Dice Cile Proveremo Cile Proveremo Cile Non c'è una merda Di singola auto Ma che Cile è l'esoto Cile 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 Ok Proveremo con il Cile Ragazzi Sto provando fino all'ultimo A vedere se magari Non Proveremo se la trovo alla fine Proviamo Cile 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 Che abbiamo raggiunto Brave Pappere Brave Pappere Per il 20 Oddio Cosa ho fatto Ho fatto un casino Qua Allora Pappere Io vado A Nanna Perché domani Mi devo svegliare presto Perché abbiamo la maratona Pappere Io questa sera Vi ringrazio per i follow Cile Cile Divertimento Le risate Noi ci vediamo domani Alle 2 del pomeriggio Per la maratona Io vi auguro Tanta buona Nanna Parantini Vi mando un abbraccio E un bacione Noi ci vediamo domani Notte Pappere Pappere